ModCraft con i porco cazzini Delle api E non so in quanti mi hanno praticamente smerdato dicendomi che esiste la parola apicoltori Che in realtà la sapevo però non me la ricordavo E appunto la domanda è Preferite che io con TownCraft mi baso su item che potrebbero esserci utili a migliorare il nostro intero lavoro Oppure che trovo modi utilissimi e magari anche certi modi meno utili Per mischiare TownCraft con le altre mod per creare dei progetti enormi Penso che la seconda sia un po' meglio Comunque iniziamo questo episodio Cosa andremo a fare come prima cosa oggi? Beh come vi dovreste ricordare Almeno che non seguite tutti gli episodi Abbiamo il problema che non possiamo trasportare l'olio preso da questa nostra pompa Alle nostre tank Quindi quello che dovremmo fare è un item chiamato Tesseract E' molto molto simile all'Energy Cell Sono praticamente della stessa mod E hanno i crafting molto simili Solo che cambiano gli oggetti che vengono usati nel crafting Secondo la wiki Sì qua ho tolto la fornace perché avevamo fatto questo allo scorso episodio E guardate abbiamo tutti i battery box pieni Questo pieno Sta andando tutto alla grande Non ho ancora coperto qua perché non avevo voglia sinceramente Quindi l'ho lasciato aperto E ho deciso per cosa utilizzerò questa stanza Non voglio ancora dirvelo perché è un po' una cosa che non voglio rivelare subito Però nel futuro lo scopriremo E a proposito se vedete che muovo la visuale un po' più in fretta E' che ho finalmente ricevuto il Razer Naga Domani dovrebbe uscire il vlog Anche se l'ho registrato ieri che era lunedì Però lo sto editando Sto vedendo dei problemi d'audio Ma lasciamo stare Comunque Come dice la wiki I Tesseract sono degli oggetti della quarta dimensione Che possono trasportare oggetti, liquidi o energia Quando si trasporta energia c'è una perdita di energia del 25% Che comunque può essere editata nel config Quindi nelle configurazioni del pacchetto di mod che voi state usando Per toglierla, riducerla, aumentarla, quello che volete Comunque Come le energy cell Dobbiamo prima creare il frame Che è appunto la base del nostro Tesseract Che si crafta con del tin Dell'hardened glass Che abbiamo già visto che si fa in un induction smelter Con del pulverized obsidian e del lead E un diamante al centro Quindi ce ne serviranno due Uno per ricevere e uno per Appunto Inviare Quindi ecco qua le nostre frame Per usare le nostre frame Dovremmo riempirle con Del molten ender Che si produce sciogliendo Nel nostro Beh diciamo sciogliendo Estraendo Beh no Molten significa Al punto più caldo che può arrivare Quindi si sciogliendo Il nostro magma crucible delle ender pearl Per Per riempirne una Ci serviranno 1000 mb Quindi un Un secchiello Ecco Non mi veniva la parola Di Di ender Cioè di Di liquido di ender pearl Di molten ender Una ender pearl ce ne da 2 e 50 Quindi ce ne serviranno In totale 8 Quindi 4 per Tesseract Vediamo quante ne abbiamo Ok 2 Non è molto Ci riempie mezzo Con 2 Quindi mettiamole qua Per ora Almeno non richiede molto Metto qua Già i nostri Tesseract Così Iniziamo a riempirle Comunque Per creare Delle ender pearl Che non abbiamo Ci viene A grande aiuto La equivalent exchange Che con 4 pezzi di ferro Ci permette di creare Un ender pearl Quindi visto che ce ne serviranno Altre 6 1 2 3 4 5 E 6 Ok La mia durabilità Qua sta quasi finendo Fra poco Rimango a secco Ma meno male che ne abbiamo Craftato un'altra Ecco qua le nostre 6 ender pearl E quei piccoli simboli Che vedete Quando passo sulle cose Sono i diversi simboli Magici di Towncraft Che vedremo nel futuro Come ho già detto Quindi mettiamo le nostre Ender pearl qua E piano piano Dovrebbe iniziare A riempirci La nostra tank Laterale Qui Che ci permette Di appunto Riempire uno Dei nostri Tesseract Quindi uno è già partito Dovrebbe arrivare qua Appena Ha finito Vediamo Dove l'hai mandato Ah no Ok lo sta riempiendo Proprio ora Possiamo vedere C'è La barretta qua E' un po' lento Ok abbiamo Sciolto tutte le ender pearl Quindi il primo Dovrebbe uscire ora Vediamo Dove l'hai messo Eccolo qua E adesso sta Riempiendo anche il secondo Vabbè Intanto che questo Finisce Voglio andare a craftare Un Chunk loader Che ci permette Di tenere caricata Un'area Di un mondo Del nether Del land Dei mondi speciali Della mist craft Anche se non ce l'ho installata E ce ne serviranno Un paio di questi L'unico problema Di questi È che per essere craftati Serve un enchantment table Quindi ci serviranno Altre due ender pearl Altri Due Enchantment table E dieci pezzi Di oro Quindi ci servirà Quindi ci servirà anche Dell'obsidian Per I nostri Enchantment table Che sinceramente Non ho Quindi dovrò trovare Un modo per farlo Quindi Abbiamo le ender pearl E poi cos'altro ci serviva L'enchantment table Che si crafta con Quattro obsidian Quindi ci serviranno Otto obsidian Quattro diamanti E due libri Quindi Prendiamo quattro diamanti Cosa un po' costosa Ma ci servirà Nel futuro Quindi vediamo se ha finito Intanto qua Dov'è? Eccolo qui Ora Voglio mostrarvi un attimo La gui Dei nostri tesseract Però come potete vedere Non mi fa Piazzare il nostro tesseract Se io cerco qui Tes Che sarebbero gli iniziali Per tesseract E ho dato sto nome Troppe volte Prima o poi sbaglierò Potete vedere che anche il nome Del nostro tesseract È Anatuned Tesseract Non so come si pronunci Sinceramente non ho mai detto quella parola Che appunto sta a significare Che non abbiamo dato Un settaggio al nostro tesseract Come ho detto prima Ci sono tre tipi diversi Energy Liquid E item O item Come lo volete pronunciare Energy Ci permette di trasportare L'elettricità Liquid I liquidi E I item I item Più ovviamente di così Quindi Quello che ci servirà a noi È il liquid tesseract Perché dobbiamo trasportare L'olio Per craftarlo Ci servono Due pezzi di tin Due di silver Uno di copper Il pneumatic servo Ah servo No no Ok battuta del cazzo E il nostro E il nostro Anato Tesseract Ok L'automatic servo Si crafta con Due pezzi di glass Un pezzo di redstone E due pezzi di ferro Quindi ecco qua I nostri Liquid Tesseract Se io vado a piazzarne uno Potete vedere che qua È un po' complicato Abbiamo questo Che è information Che non ci serve Un piccolo tutorial Per Il controllo Con la redstone Questo è il controllo Con la redstone Possiamo dirgli Disabilitato Attivalo solo Quando c'è un segnale Attivo Attivalo solo Quando c'è un segnale Non attivo Quindi Quello lo lasciamo stare Perché non ci interessa Questa è una cosa Un po' più importante Sinceramente Non per Noi Forse solo questa parte È un po' più piccola Quella a destra Potete vedere che qua Abbiamo un lucchetto Il lucchetto sta a significare Se è nostro O se è pubblico Di accesso pubblico Questo può servire Nei server Ma sinceramente A noi qua Non serve Poi qui abbiamo Delle freccette Potete vedere Una blu E un arancione In stile reddit Non so quanti di voi Conoscono reddit Comunque Quell'arancione È per sendolli Quindi Per inviare E basta E quella Scusate Quella blu È per ricevere E basta Noi ne metteremo Uno che può ricevere E uno che può Inviare E basta Quindi uno Di ognuno Per romperli Serve Il Come si chiama No Ce l'ho qui dentro Vero? Sì Il crescent hammer Che è La wrench Della mod Diciamo E bisogna fare Shift click Quindi Cosa abbiamo qua al centro Abbiamo Device inactive Ci dice Che la Che l'hai Cioè Che il Tesseract Non sta funzionando O non sta lavorando Dovrei dire Qui possiamo mettere Una Una frequenza Quindi io gli dico Uno per esempio E gli posso dare Un nome La chiamo Olio Refineria O scriviamo Refinery Che poi Capirete cos'è Io posso mettere Set frequency E posso anche Aggiungere La frequenza Ad una lista Di frequenze Che ho Quindi se io vado qua E dico questo Posso fare Click Click Set frequency E adesso abbiamo La frequenza Settata su entrambi Quindi potete vedere Che staccano comunque Anche se abbiamo Cambiato le preferenze Perché una volta Che li rompiamo Li togliamo dal mondo Le preferenze Si resettano Però come potete vedere È rimasta Quella 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 No non mi viene il nome Quella Shasha Quella frequenza Ecco Quella frequenza Che avevamo messo Quindi Ora datemi un po' di tempo Per craftare Questi nostri Chunk loader E vi spiegherò Appena ho finito Che a che cosa ci servono E perché Ci servono proprio In questo motivo Ok eccoci qua Con i nostri Enchantment table E sono sicuro Che prima di Fare questo stop Ho detto Una parola strana Che non C'entrava nulla Ma vabbè Lasciamo stare Comunque Ora Andiamo No Voglio dormire Prima vediamo se mi lascio dormire Ok C'è ancora quel bug Della portal Oh mio dio Comunque Tanti di voi Mi hanno chiesto La mappa La mappa la rilascio Ogni Cinque o dieci episodi Quindi Visto che non l'ho rilasciata Al decimo La rilascerò Al quindicesimo Non so se questo è il quindicesimo Dovrei controllare Ma vabbè Comunque Ora andiamo a piazzare I nostri Tesseract Il primo lo vogliamo piazzare Direttamente sopra La nostra pompa Pompa Ho due anni E li diciamo Oil refinery Sand holly Quindi Invia e basta Ok E questo è settato Sopra la nostra Tesseract O anzi Lo voglio mettere Qui A fianco Mettiamo il nostro Chunk loader Potete vedere che è un po' difficile Forse da capire Ma non è così Difficile una volta spiegato Qua c'è il nome Chunk loader Ovviamente Poi abbiamo Raggio Radius Che li possiamo dire Fino a quanto grande lo vogliamo Fino a dieci Per quello Per quello quadrato Poi c'è tondo Lina x Quindi sulla Sulla linea x Del mondo Linea z E quadrato Di nuovo Per il momento Ci servirà quadrato E potete vedere Che c'è un tastino Qua che si chiama Show laser Scusate Che ci permette Di vedere Quali parti Sono tenute Appunto Caricate Dal nostro Chunk loader Potete vedere Che è un'area Piuttosto enorme Che al momento Non penso ci serva Quindi posso dirgli Anche solo Un chunk Però potete vedere Che lui si dirige Verso il chunk Più vicino Che è quello lì Quindi non sta Tenendo caricato Il nostro La nostra pompa Quindi Rimuoviamolo Vediamo se Mettendolo qua Abbiamo un po' più Sì non questo Abbiamo un po' più di fortuna Vediamo Show lasers Questo è due Potete vedere che va là Quindi Visto che non possiamo Tenerlo caricato Solo uno Lasciamo due E abbiamo tutta L'area caricata Quindi Lo rimettiamo Sopra la pompa Così non dobbiamo stare A preoccuparci Che un creeper lo esploda O che venga rubato Da un enderman Anche se non penso Che li possano prendere su Comunque potete vedere Che lì c'è anche il mio nome Il mio nome di minecraft Va bene C'è un creeper Proprio sotto di me E quel nome Sta per È una specie di blocco Sempre per il multiplayer Per non far utilizzare Il vostro item D'altra gente Quindi Sinceramente In single player Non ci serve Ora Cosa voglio fare Come prima cosa Voglio andare a fare Un item Che ci servirà Per Ehm Riutilizzare Questo olio Che appunto Stiamo collezionando ora Ehm Questo item Si chiama Refinery Che è quello che Avevo scritto prima Ehm Nel 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 Craftarla ci servono Delle Redstone torch Delle tank Che abbiamo già visto Che sono 8 pezzi di vetro E una diamond gear Come sapete Tutte le gear Sono praticamente Ehm Vanno per Ordine di Grandi Di Di Rarità Diciamo Quindi Una diamond gear E 4 diamanti E una gold gear Una gold gear E 4 pezzi di Oro E un iron gear E così via Per tutte le gear Ehm Qui dentro Ho già craftato Un po' tutto Tranne la diamond gear Perché La volevo craftare Con voi Ehm Ho 3 tank Che avevo Già craftato Nello scorso episodio E mi servono 2 redstone torch Quindi Prendiamo 2 Ehm Ok Craftiamo Queste 2 redstone torch Non so perché Uso Quel crafting Ma va bene E mettiamole così Ok Abbiamo la nostra refinery Ehm La refinery Ehm Una delle macchine Con il gui Più semplice O il GY No Penso si pronuncia gui Sì Ehm Più semplice Che esista Ha 2 entrate E un'uscita Ehm Che in realtà Non servono neanche Essere utilizzate Quindi Ehm Ve lo posso spiegare così Come potete vedere Ci sono queste Barre ai lati Che sono rosse Ora perché non sta lavorando Ehm Dovrei anche dirvi Che cosa fa No Ehm La refinery Ci permette di Mettere Olio In queste Questa parte La Dietro Diciamo Del blocco Da sopra Sembra un pene Hmm Un pene minecraftoso Comunque Qua diciamo Nei testicoli Della nostra refinery Possiamo mettere Due tank Due piccole tank Di olio E in quella davanti Viene prodotto Grazie all'energia Di billcraft Che viene indicata Da queste barre Ehm Ci sono diversi stadi Ehm Il colore delle barre Cambia il secondo Lo stadio E qua davanti Ci viene Ehm Diciamo Prodotto Del cosiddetto Fuel Che è Una versione Raffinata Dell'olio Che è quello Che spawna Nei mondi Quindi io voglio Prendere Questa nostra Refinery E anche La nostra Ok ce l'abbiamo Con noi La nostra Redstone Energy Cell Perché L'andremo a piazzare Nella nostra base Di là Però voglio Anche prendere Questi Che sono Le nostre tank Che mi avete detto Che dovrei farle Più grandi Ma sinceramente Non le voglio Più grandi Perché mi bastano Così per ora Scusate Stavo deglutendo Perché ho la gola Un po' secca Ma lasciamo stare Comunque Voglio lasciare Tutta quella parte Lì Laterale A destra Perché mi servirà Per delle cose Nel prossimo Nei prossimi episodi Che riguardano La mod Delle Soul Shard Quindi io voglio Lasciare un po' Di spazio Come avevo fatto L'altra volta Le ho tolte Solo per Cauzione Esiste come Parola Non ne sono sicuro No Non penso Come Per sicurezza Ecco Diciamo per sicurezza Voglio mettere Come l'altra volta Tutti i blocchi Che Che compongono Che compongono La nostra tank E dobbiamo anche Decidere dove mettere Le valvole Questa volta Una valvola La vogliamo Qui dietro Anzi Lateralmente Lateralmente Forse è meglio Per inserire Il fuel Che produrremo Tegliamo questa roba Che non ci serve Oh mio dio Di nuovo Ok Non funziona Come mai Non sta contando Questa Tank Questa valve Come Un blocco Ok Ora va Se io lo metto qua La valve Vediamo se va Ok Così va Quindi dobbiamo Quindi dobbiamo E mettiamo E mettiamo La nostra Refiner Qua Quindi perfetto Mettiamo Il nostro Liquid Tesseract Direttamente Dietro E facciamo Receive E potete vedere Che adesso E' appunto Il nostro fuel L'unica cosa Che ci manca E' riuscire a trasportare Questo nostro fuel Alla tank Per tenerlo al sicuro E per non perderlo O per non lasciarlo lì Così che ne possiamo Produrre altro Mentre Mettiamo via Quello Sì Mentre Archiviamo Quel liquido Per Metter via Quel liquido Ci serve Del liquidact Che avevo già Craftato Molto tempo fa Che si crafta Con del copper E dell'hardened glass Che abbiamo già visto Non so quante volte Quindi L'ultima cosa Che facciamo In questo episodio E' andare A mettere Questo nostro Liquidact Per estrarre Il fuel Dalla Nostra Refinery Per ora Utilizzeremo Solo una Refinery Perché sinceramente Non ho Nei diamanti Nelle cose Ne altre cose Che ci servirebbero Nell'energia Diciamo Per Creare Abbastanza Refinery Quindi le creeremo Nel futuro E voglio mettere Questo che faccia Output Vediamo se Inizia A buttare fuori Il suo fuel Sembra di no Mi sa che vuole Tipo Un Redstone Engine O qualcosa del genere Comunque L'avete capito Quello che voglio fare E' connettere Il nostro La nostra Refinery Che ci produce Il fuel Alla nostra Tank Per Poter Mettere via O archiviare Il nostro liquido Quindi Per ora Per questo episodio È tutto Spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace Se l'avete trovato Utile O se l'avete trovato Divertente Bello Non lo so E niente Con questo vi saluto Bella raga Qui da Anifra